Ciao a tutti, volevo farvi vedere attraverso questo video come poter inserire il vostro lavoro sul nostro e-tweening. Allora, in questo momento mi trovo quindi nella pagina iniziale, ho appena fatto il login e vado ovviamente sul e-tweening live. Questa è la mia pagina dell'e-tweening live che è uguale un po' per tutti. Adesso vado a cercare su progetti, qui ci sono i miei progetti, quelli attualmente attivi e quelli chiusi, fatti magari negli anni precedenti. Vado nel nostro progetto cultura e confronto, non entro dentro il progetto, ma vado direttamente qui su twinspace. Questo è il nostro twinspace, cioè quella pagina all'interno del quale riusciamo a raccogliere tutti i materiali. Come vedete, questa pagina si divide appunto in pagine, immagini e video. E qui in alto abbiamo l'home page che è questa, appunto le pagine, i materiali, che poi sono le immagini, video ed eventuali file. E poi ci sono forum, membri, live, eccetera. Ma per il momento ci fermiamo soltanto su materiali e su pagine. Allora, per inserire il vostro materiale bisognerà farlo su pagine. Su pagine abbiamo il logo del nostro progetto, di cui vi parlerò più avanti, anche le presentazioni vi parlerò più avanti. A noi al momento interessa luoghi. Entro su luoghi. Come vedete, all'interno dei luoghi ci sono delle sottopagini. Alcune sono state create dai nostri colleghi pugliesi, come le prime due, e poi ci sono quelle che ho creato io stamattina. E hanno i nomi delle nostre scuole, dei nostri plessi. Quindi si va dai C San Giulio, secondaria di Orta San Giulio, primaria di Orta San Giulio, infanzia di Orta Allegro, secondaria di Armeno e così via. Come si fa ad aggiungere una sottopagina? Se qualcuno di voi, per esempio, volesse aggiungere una sottopagina all'interno, oppure modificarne una, innanzitutto basta andare su crea una pagina, si apre questa schermata qui, andiamo a vedere dove mettere la sottopagina, la mettiamo sotto luoghi, a questo punto scriviamo il nome della pagina, quindi nel nostro caso abbiamo i C San Giulio, ecco qui mi viene già fuori qualcosa, insomma, mettiamo in caso che volessimo inserire la sottopagina di un'altra scuola del nostro istituto, non so, infanzia di Armeno, tanto per fare un esempio. Qui andiamo a mettere chi può vedere questa pagina, solitamente sono tutti membri del Twinspace, perché altrimenti solo io e gli amministratori potrebbero essere limitanti. E chi può modificare questa pagina? Insegnanti, amministratori, e abbiamo deciso di mettere anche alunni, perché poi ci sarà un modo per far entrare anche gli alunni. Quindi, ecco qui, qui ci chiede di inserire un titolo alla pagina che poi può essere modificato in qualsiasi momento, Armeno, Infanzia, ecco, una volta cliccato su Salva, questa sottopagina si creerà proprio sotto la pagina dei luoghi. Adesso io non lo salvo, è notare che non si crea una pagina che non esiste. E quindi torno alla home page. Adesso entriamo dentro una delle sottopagine dove ho già inserito il materiale. Ne faccio vedere entrambe. Questa è la secondaria di Orta, dove è stato inserito il lavoro presentato dai colleghi della secondaria. e quindi tra storie e leggenda nel cuore del lago d'Orta. E poi ci sono tutta una serie di slide con immagini. Come vedete, si possono ovviamente ingrandire e leggere meglio. E poi ho già inserito anche il materiale dell'infanzia di Orta e l'ego, che è questo. Ecco, qui eventualmente chiederei poi alle colleghe, o comunque posso farlo io, per esempio di modificare il titolo iniziale perché potremmo renderlo più carino. E qui ci sono le slide inserite per il lavoro dei ragazzi della scuola dell'infanzia. Allora, come ho fatto a fare ciò? Facciamone, facciamo un esempio. Allora, innanzitutto bisogna andare su materiali. Su materiali trovate una cartella per ognuno dei vostri plessi. Vedete, primaria Alzo, infanzia San Maurizio, primaria di Armeno e così via. Io ho già riempito le cartelle di infanzia Orta-Legro e secondaria di Orta, che sono appunto le due che sono già state inserite. Quindi vi faccio vedere la cartella infanzia Orta-Legro. Qui si possono inserire le immagini. Molto semplice, basta trascinare proprio delle immagini che avete sul vostro computer su questo spazio, oppure caricarle direttamente nel modo più normale, come questo. Come potete vedere, basta quindi poi cliccare su Scegli e le immagini vanno dentro. Le immagini devono essere salvate con un'estensione JPG, altrimenti non vengono inserite. Adesso appunto le immagini saranno salvate dentro la nostra cartella Infanzia Orta-Legro. Possiamo tornare alla nostra home page. Andiamo in luoghi. Riesco ad aprirlo. Ecco qui. A questo punto facciamo... Creiamo una pagina di prova. La chiamiamo IC San Giulio Infanzia di Orta-Legro. Prova. La rendiamo visibile ai membri del Twin Space e anche agli alunni. inseriamo qui un titolo, giusto per iniziare. San Giulio Infanzia Orta-Legro. E la mettiamo tra le sottopagine dei luoghi, altrimenti non si salva nel posto giusto. E quindi la salviamo. Adesso andiamo a vedere appunto tra luoghi. Tra le varie sottopagine abbiamo la nuova Infanzia Orta-Legro. Infanzia Orta-Legro. In questo spazio possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, possiamo rendere il nostro titolo un po' più grande, lo centriamo, lo ingrassiamo. Possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo cambiare il carattere. E giù possiamo scrivere del testo così come lo vogliamo. Ok? E poi possiamo andare ad inserire i nostri materiali. Quindi delle immagini, potrebbero essere soltanto delle immagini che poi possono essere documentate appunto dai testi. Oppure, come abbiamo fatto in questo caso, sono delle slide. E quindi andiamo su materiali, andiamo a cercare Infanzia di Orta-Legro e andiamo a prendere le nostre slide. Questa è la prima, poi possiamo procedere proprio in maniera veloce. La seconda, la terza e così via. Possiamo aggiungerle tutte. Possiamo anche decidere tra una slide e un'altra, per esempio, di crearci uno spazio per inserire del testo, oppure, perché no, per inserire un link, per esempio. Se abbiamo un video, possiamo inserire un link attraverso questo collegamento. Qui abbiamo quindi l'inserimento del link. Andiamo a cercare, non so, un link tra le nostre robe. Per esempio, adesso mi viene in mente niente, il sito della nostra scuola. Ecco qui. Quindi copiamo il link. Ritorniamo qui, mettiamo il nostro link, diamo ok. E qui si è aggiunto il link. Questo è molto utile per chi volesse inserire dei video, perché i video, purtroppo, non possiamo caricarli diversamente, se non che tramite YouTube. E quindi, laddove c'è un video, va inserito il video su YouTube e poi viene riportato in questo spazio, in questi spazi, attraverso un link. Il link del video apre anche una finestrella sulla nostra pagina, dove c'è la prima immagine, diciamo, del video. Beh, una volta inserite tutte le immagini, tutto quello che vogliamo aggiungere, possiamo salvare. E quindi la nostra pagina, il C. San Giulio Infanzia di Orta Allegro Prova, è qui, a questo punto, in questo momento non più modificabile. Per modificare, ovviamente, dobbiamo andare sempre su modificare, possiamo portare tutte le modifiche che vogliamo. Adesso, questa pagina, in effetti, è superflua, quindi possiamo andare proprio su modifica pagina. E per eliminare questa pagina, scendiamo giù in fondo e andiamo su archivia pagina. La pagina, in effetti, non viene assolutamente eliminata, però viene archiviata, quindi non la ritroveremo più nella nostra home page, tra le sottopagini che avevamo creato in precedenza. Questo procedimento è utile perché magari nell'inserimento di un lavoro potreste fare un errore, avete bisogno di eliminare la vostra pagina, potete usare questa procedura. Ok, per il momento è tutto, vi ringrazio, vi aggiornerò per i prossimi inserimenti. Grazie.